E salve a tutti ragazzi e bentornati finalmente in questo mio nuovo video come forse, ma forse, vi sarete accorti questo è un nuovo format sul mio canale che avevo anticipato nell'ultimo video risposta alle vostre domande infatti è da anni che moltissimi di voi mi chiedono fai dei video dove ci racconti degli aneddoti come se fossimo tanti amici seduti eleganti perché un minimo di eleganza ci vuole tutti a cerchio in un tavolo di un bar e davanti a qualche sciottino di Super Alcolico si raccontano delle storie perché oramai molti hanno un format in cui raccontano degli aneddoti ai propri iscritti proprio per rafforzare il legame con loro e anche per farli divertire ovviamente sono aneddoti divertenti Dread per esempio ha il Dread and Breakfast Yotobi ha l'open bar però siccome non mi va né di mangiarmi latte e biscotti alle 6 di sera né di lavorare con il green screen perché è troppo faticoso semplicemente berremo qualcosa mentre in questa nuova serie vi racconterò degli aneddoti comunque ovviamente riguardanti o il mio canale o qualcosa di tecnologico purtroppo nel regolamento di YouTube c'è scritto che in teoria un minorenne non può bere alcolici in un video di YouTube quindi io sono ancora minorenne e quindi per oggi ci accontenteremo di succo alla pesca facendo finta che sia un super alcolico ah brucia brucia tantissimo mi sembra non so se ce l'avete presente quel video che era diventato virale su Snapchat in una festa avevano riempito una bottiglia di vodka di acqua e moltissimi la tracannavano facendo i fighi dicendo ah brucia tantissimo in realtà era palesemente acqua ragazzi manca poco tra marzo, aprile, maggio sette mesi sono maggiorenne e ci spacchiamo però per adesso bisogna continuare con il succo alla pesca peraltro versato da un bicchiere della Pantera Rosa ma a parte gli scherzi voglio che questo format sia anche un minimo serio ho molte storie da raccontarvi oggi vi racconterò di quella volta che ho disintegrato una macchina fotografica ma ne ho tante altre per esempio quella volta in cui 8 anni sono finito in televisione o quell'altra volta in cui mi ero perso in un paesino e dei fan mi hanno aiutato a ritrovare la strada potrei portarvelo settimanalmente e possiamo fare anche una cosa carina in questi sette mesi in cui mi devo inventare quali succhi analcolici bere potete scrivere nei commenti tranquillamente i succhi più strani, buoni o cattivi che vi vengano in mente potremmo cambiarlo a ogni puntata così da rendere un po' più dinamico il tutto detto questo, quella volta che ho disintegrato una macchina fotografica ed è questa qui questa è una Nikon D7000 ed è stata la mia seconda macchina fotografica per fare i video perché io ho cominciato dal nulla e questo è un bel insegnamento secondo me molti guardano i video vecchi che gli youtuber hanno pubblicato 3-4 anni fa e dicono guarda che schifo questo video ma la bellezza secondo me è anche un rapporto nel senso è un rapporto tra i mezzi che hai per realizzare il tuo prodotto e il prodotto finale io ho cominciato YouTube con una videocamera Canon che non arrivava neanche all'HD cioè fisicamente non poteva registrare in HD credo che la risoluzione massima fosse 640p e l'HD è 720p che era una videocamera che avevo trovato così in famiglia c'è la classica videocamerina che si usa durante i viaggi per fare i video della prima comunione al massimo e infatti i video erano scadenti molto scadenti ma non solo da un punto di vista di luci o di set perché io non ero esperto erano proprio scadenti a livello di pixel per evidenti limiti della macchina ma si parla di tempi in cui avevo 500 iscritti e niente di più però dopo quando effettivamente abbiamo visto tutti io e la mia famiglia che i miei video iniziavano a piacere e iniziava ad esserci un potenziale mio padre fece un grande gesto secondo me che era quello di regalarmi o meglio non regalarmi lasciarmi utilizzare la sua macchina fotografica mio padre ha una grande passione della fotografia molto spesso si dilette e si diverte a scattare foto in giro per la città oppure quando siamo in vacanza e utilizzava una Nikon di 7000 che è questa qua anche se comunque questa non è una macchina adatta per fare video non ha tutta questa grande qualità però effettivamente se voi vi guardate il salto che c'è stato di qualità indubbiamente c'è stato e ero veramente contento di poter realizzare i video e questa mi ha accompagnato per almeno un anno intero un anno, un anno e mezzo io non so se lascerei che un'altra persona utilizzi un oggetto a cui io comunque sono così affezionato perché la Nikon di 7000 non ha un chissà quale costo però è una bella macchina e a parte quello c'è indubbiamente un legame affettivo io credo che tutti gli oggetti che uno utilizzi per portare avanti la sua passione a un certo punto creino con te un legame affettivo ne sono fermamente convinto e per farvela breve io sono una persona che non dico che ha poca cura delle proprie cose perché non è vero io ho molta cura delle mie cose però a lungo andare quando utilizzo un oggetto per tanto tempo non so se capita anche a voi le prime volte che lo utilizzi lo tratti come se fosse tuo figlio un bambino cioè proprio lo prendi con delicatezza lo appoggi per paura di rovinarlo poi dopo un po' ti illudi di averci preso la mano e cominci a chiudere un po' un occhio su come lo utilizzi e non stai molto attento a come lo tratti ecco successa la stessa cosa insomma senza stare troppo qui a tirarla per le lunghe avrete capito che questa macchina mi è cascata e vi dico anche quando è successo perché ne ho la data esatta eccolo qui questo era il video in cui è successo questo macello è stato pubblicato il 24 marzo del 2014 4 anni fa io avevo 13 anni ragazzi non aveva ancora compiuto 14 anni e andava in terza media ora qui si comincia un po' a ridere molti mi chiedono come io vada a scuola io faccio un liceo scientifico attualmente e me la cavo nel senso che non sono mai stato rimandato e ovviamente neanche bocciato però alle medie la situazione era un po' diversa io alle medie credo di non aver mai fatto un compito in vita mia nel senso ero totalmente focalizzato su youtube mi potevo permettere di fare 4 video al giorno praticamente perché io praticamente ho vissuto di rendita io ho fatto delle elementari molto buone talmente buone che per tutta la prima e buona parte della seconda media mi hanno fatto vivere di rendita poi in terza ovviamente mi sono dovuto mettere un po' a studiare anche per l'esame ma tutto sommato io alle medie non ho fatto niente tant'è che per esempio all'esame di terza media mi ricordo era praticamente sicuro che interrogassero su un libro che c'era da leggere durante l'anno che io ovviamente non avevo neanche comprato e ricordo che la prof di italiano esordì la sua interrogazione nei miei confronti durante l'esame di terza media con dunque parliamo un po' di questo libro e io certo e lei capendo che magari ero un po' in difficoltà ma non immaginandosi che non l'avessi neanche letto ha iniziato un po' a venirmi incontro per esempio dunque nel primo capitolo dunque sai che succede questo la protagonista fa così quest'altro fa colà e io certo e poi nel secondo capitolo iniziano a viaggiare intraprendono il viaggio succede quest'altro e io certo ebbene e poi cosa succede Andrea dici un po' cosa succede dopo e io certo per farvi capire come ero alle medie e questo c'entra c'entra perché ovviamente i miei non è che fossero molto contenti che io fossi un fancazzista anche perché ai tempi youtube non era un lavoro era una passione quindi ovviamente lo vedevano solo come una perdita di tempo e io cercavo sempre di mascherare la cosa della serie si mamma sto facendo i compiti al cellulare mentre lei era al lavoro e invece stavo registrando un video e questo successe anche il pomeriggio della fantomatica caduta che ha rotto questa macchina fotografica e io quella giornata ce l'ho impressa veramente nel dettaglio come tutti i giorni ricevo la chiamata dai miei genitori stai facendo i compiti si mamma sto facendo matematica sto facendo italiano invece mi stavo preparando appunto per registrare questo video ero carico ho detto portiamo un bel video sui migliori giochi di app store e ai tempi diciamo che non avevo molta padronanza delle riprese le inquadrature che facevo erano sempre quelle praticamente mettevo l'iphone sul mio comodino e alzavo il treppiedi al tetto proprio al massimo che era un obelisco con la fotocamera che puntava giù ovviamente non ero esperto per capire che mettere un treppiede così alto non è che sia proprio sicuro per la macchina fotografica che stava sopra e infatti quando avevo finito di registrare il video perché ovviamente poi queste cose succedono sempre a telecamera spenta mi alzo di scatto e pur essendo magro come un chiodo praticamente ho dato una spallata al treppiedi non rendendomene conto e un attimo dopo ho sentito un suono di distruzione pura sul legno del mio pavimento e lì sinceramente mi sono spaventato perché un attimo dopo ho realizzato c'è solo una cosa vicina a me in questo istante che cadendo può aver fatto questo suono ti prego dimmi che non è lei mi sono girato ho guardato per a terra e praticamente c'era questa ovviamente è rimasta attaccata al treppiede però è volata giù e ha impattato qui nella zona del flash che infatti come potete vedere è completamente distrutta e in quel momento io non avevo la più pallida idea di cosa fare ricordo che c'era mio nonno in casa nell'altra stanza e arriva la classica frase cos'è successo ho sentito dei rumori stai bene e ovviamente la tipica risposta non è successo niente che invece lasciava presagire che era successa una catastrofe la fine del mondo e quindi in quell'istante mentre raccoglievo i pezzi di plastica del flash per terra li avevo messi in un piattino tipo reliquia tipo oddio adesso dove li metto iniziavo a pensare arrivava un flusso di pensieri nella mia testa della serie tra poco rientrano i miei e lo devo dire tra poco rientrano i miei si accorgeranno che stavo registrando un video anziché fare i compiti nei miei vedranno che c'è del vetro per terra tra poco rientra mio padre e gli devo dire che gli ho rotto la macchina fotografica sono un fallimento nella vita questo era più o meno la catena di pensieri che avevo in testa in quel momento e quindi dopo aver registrato il video non l'avevo neanche montato poi tipo è riuscito una settimana dopo e mi ero messo in posizione proprio avete presente quando in piscina fate il morto così no in posizione immobile sul letto a peso morto a guardare un punto fisso perché io sul soffitto ho una piccola macchia tipo a guardare quel punto fisso così e a pensare al resto delle ore che mi aspettavano quel giorno anche ovviamente poi voi magari vi aspettereste è successo un miracolo è arrivato un meccanico l'ha messa a posto oppure te la sei scampata in qualche modo no ovviamente era successa l'unica cosa plausibile che poteva succedere i miei sono entrati a casa e io con grande rammarico ho detto vi devo dare due brutte notizie la prima è che neanche oggi ho studiato la seconda è che ho disintegrato la macchina fotografica la presero come la dovevano prendere cioè ovviamente non la presero bene tutti possono sbagliare a tutti può capitare di rompere qualcosa però ovviamente mi dissero quando cazzarola ti vuoi svegliare nella tua vita da quel momento in poi mi sono svegliato da quel momento in poi ho imparato comunque a trattare con molta più cura gli oggetti preziosi e che lo meritano da questo momento in poi da quando ho rotto questa mi son detto ok è giusto che ognuno usi le proprie attrezzature ho aspettato un po' ho utilizzato ancora per un po' questa poi avevo messo da parte i soldi e mi son comprato la GH4 che è quella che tutto era utilizzo che è mia con gli obiettivi miei così qualora dovessi fare qualche casino quello che ne paga le conseguenze sono io e non gli altri che poi per tutti quelli che dicono guarda che non è distrutta è perfettamente funzionante hai fatto solo un video clickbait in realtà no perché i danni collaterali sono tanti innanzitutto non sempre funziona cioè la si accende ma dà visivamente dei problemi la cosa più preoccupante però è che quando uno la va ad impugnare ovviamente appena sfiora questa parte qua da accesa si becca una di quelle scosse che non vi auguro di provare sinceramente io l'ho provata peraltro barzelletta mentre la stavo tenendo in mano e ho preso la scossa ovviamente dalla botta la stavo per far cadere ancora per fortuna l'ho afferrata con tutte le mie poche forze quindi ragazzi questo era il primo aneddoto che avevo da raccontarvi spero che questo nuovo format vi piaccia ovviamente è appena nato quindi ditemi se vi piace se non vi piace cosa vorreste cambiare cosa vorreste che io vi racconti datemi degli spunti consigliatemi degli altri succhi da provare e niente io spero che vi piaccia se è così fatemelo sapere lasciando un bel pollice in su che mi renderebbe veramente felice seguitemi su tutti i miei social network come sempre il link ve li lascio qui sotto giù in descrizione cliccando qui ai lati potete raggiungere altri miei due video invece cliccando qui al centro vi iscrivete al mio canale se lo fate siete dei grandi io vi mando un grande saluto e noi ci rivediamo in un prossimo video ciao ciao Grazie a tutti.